Questa potrebbe essere la settimana decisiva per la formazione della nuova giunta a Palazzo Carafa. Il sindaco rientrato sabato sarebbe già al lavoro iniziando il giro di ascolti proprio dai consiglieri più votati nel PDL, ossia Messuti, Monosi e Dautilia. Ai tre futuri assessori della lista Miraglia, il quarto spetterebbe ai Mantovagnani, cioè Coclite o Signore, andranno le deleghe più pesanti, così avrebbe detto Paolo Perrone, che in questo modo garantirebbe il giusto riconoscimento alla lista che ha giocato un ruolo determinante nella partita delle urne, quadrando anche gli equilibri di un'area interna al PDL fra Fitto, Marti e Perrone stesso. Attilio Monosi dovrebbe essere riconfermato al bilancio dove terminerebbe il percorso di risanamento delle casse del comune con il piano delle alienazioni e valorizzazioni. La delega all'urbanistica potrebbe essere gestita da Dammiano Dautilia e Gaetano Messuti i lavori pubblici o viceversa. Al Mantovagnano, che potrebbe essere Gigi Coclite o Pierpaolo Signore, infine potrebbe essere affidata la delega all'ambiente. Per la Puglia prima di tutto invece si fa sempre più insistente alla voce dell'ingresso in giunta di Paolo Cairo, che avrebbe la meglio su Rocco Ciardo, facendo scattare in consiglio Fausto Giancane. Per Lecce Città del Mondo invece Andrea Guido. Il nodo della quota rosa infine potrebbe scioglierlo Grande Lecce, facendo entrare la prima dei non eletti Giordana Guerrieri. Poi c'è il capitolo alleati. Io Sud, Fli e Movimento Regione Salento. Tutti aspirano a un posto in giunta, ma la grana resta nelle mani del sindaco Paolo Perrone. Sarà lui, infatti, a decidere quali delle liste che lo hanno sostenuto in campagna elettorale dovrà fare a meno di un posto in giunta, così come sarà sempre Perrone a assogliere un altro nodo, quello della delega di suo vice. Tuttavia garantire l'armonia a Palazzo Carafa potrebbe essere il vicino Palazzo dei Celestini, così come fece negli anni precedenti affidando la presidenza di Alba Service a Damiano Dautilia. Oggi i numeri di Perrone sono diversi e la tenuta di governo è garantita da un'ampia maggioranza. Tuttavia l'elezione a primo cittadino di Casarano di un uomo dell'esecutivo di Gabellone potrebbe aprire una riflessione all'interno della maggioranza che potrebbe coinvolgere gli scontenti di Palazzo Carafa. Aspettiamo di vedere le scelte che farà il sindaco Perrone perché penso che siano quelle che aspettano un po' tutti, in primis i cittadini di Lecce che si attendono appunto la composizione dell'aggiunta e poi dopo vedremo se questo percorso diciamo deve essere poi ulteriormente corroborato da ulteriori forme di collaborazione. Pochi giorni ancora lo scacchiere a Palazzo Carafa e dei Celestini sarà più chiaro.